Kim Kardashian amica di Meghan Markle, Serena Williams farà da tramite Kim Kardashian vuole diventare amica di Meghan Markle. Kim Kardashian sta facendo di tutto per diventare amica di Meghan Markle ora che sta per sposare il principe Harry. A quanto pare sono davvero alte le probabilità che Kim incontri presto i futuri membri della famiglia reale, grazie ad un'amica in comune. Si tratta di Serena Williams, a rivelare la notizia è stato il sito liveodlife.com. Stando alla fonte la Kardashian sta approfittando della sua amicizia con Serena per conoscere Meghan e riuscire ad ottenere un invito al matrimonio. A quanto pare la tennista ha già promesso che le presenterà presto la futura principessa. . Di certo lei è molto eccitata per questa occasione, non vede l'ora di incontrarla poiché è molto affascinata dalla sua vita. . Serena Williams presenterà Meghan a Kim. Serena Williams e Meghan Markle sono molto amiche. . La fidanzata del principe Harry aveva dato inizialmente conferma al suo matrimonio con Alexis Young. Proprio in quell'occasione la Kardashian avrebbe potuto conoscerla, ma la Markle alla fine non era riuscita ad essere presente. . E' risaputo, però, che Kim ottiene quasi sempre ciò che desidera. . Anche in questo caso farà di tutto per stringere amicizia con Meghan. . Di certo deve fare in fretta per riuscire ad essere invitata al matrimonio, poiché le nozze sono ormai vicine. . . . . .